Sì, una vittoria che oggi ci voleva proprio? Dirai di sì perché ci tenevamo a fare risultato per il Natale così che possiamo lavorare sereni in vista del nuovo anno, quindi siamo veramente contenti perché siamo riusciti a vincere con la prima classifica. Oltre alla vittoria, una prestazione corale della squadra, diciamo una squadra che sembra irriconoscibile rispetto alle ultime prestazioni? Sì, diciamo che abbiamo preso tutte le energie che avevamo e con tanto sacrificio siamo riusciti a fare una grandissima partita, come sia in fase offensiva e per fortuna abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto e per fortuna abbiamo portato a casa il risultato. Quanto è inciso avere una settimana di tempo per lavorare sulla vittoria? Tantissimo, soprattutto mentalmente perché ci prepariamo al meglio, mentre se giochi ogni tre giorni comunque sia le energie fisiche che mentali tante volte le disperdi. Intanto è arrivato anche il gol. Per fortuna sì, mi sono fatto gol, adesso siamo 4 a 6 però era veramente importante vincere perché abbiamo dimostrato di poter giocarcela con tutti e siamo di alidoso comunque delle prime posizioni. Quindi adesso, come ho detto, ci permetterà di lavorare con serenità e aspettiamo di giocare in casa il 6 gennaio e fare un grande risultato anche lì. Grazie mille e tanti auguri di Buon Natale a te e a tutti i tifosi d'Eco. Grazie, Buon Natale anche voi.